Riflessioni sull'impegno e la giustizia sociale. Questo è il tema del dibattito con il giornalista Riccardo Orioles, ospitato dal Centro Culturale Polivalente Antonio Librizi di Capodorlando. L'incontro è stato promosso e introdotto dalla sociologa Ludovica Ioppolo e dal consigliere comunale Alessio Micale. Milazzese di nascita, Orioles è il punto di riferimento nel panorama giornalistico in Sicilia. Da sempre si è impegnato a contrastare mafia e corruzione ed è stato il fondatore dello storico mensile i siciliani insieme all'amico Pippo Fava nel 1982. Tuttora dirige la redazione dei siciliani giovani. La necessità di portarlo qua nasce dal fatto che il suo impegno può essere un esempio per i ragazzi. Non ha mai smesso di lavorare per dare descrizione esatta, precisa delle cose che succedevano con coraggio e facendo i nomi. Mi ha detto, e questa è la cosa più bella, che i principali e i più bravi giornalisti che collaborano con i siciliani giovani sono camerieri. Lui crede veramente in un'antimafia sociale. Alcuni aspetti della società in cui viviamo sono decisamente, e lo dico senza critica, ma tecnicamente sono molto medievali. Un mio amico economista è convintissimo che in questo momento stiamo attraversando la fase del mercantilismo, circa 1650. Io non lo so perché, ripeto, oltre a essere un giornalista, quindi un esperto di niente, non posso parlare con autorevolezza in alcun campo specifico, economia, solo. Posso solo da persona comune tenere gli occhi aperti e partecipare al dibattito.